Adesso un assaggio del nuovo Disney Channel Original Movie Descendants 3 L'unica ragione valida per aprire la barriera è riportare indietro Uma Non portare qui altri cattivi È Abe! Ferma l'auto, vuole scappare! Io sono un zeeo! E non devo stare qui! Ah! Tutti calmi! Niente panico! È mal! La vostra mal non riesce nemmeno a difenderci! Contro ordine! Scappate! Si sape chi può! Colpisci la mano, presto! Non è... Non è... Non è... Non è... Non è... No... Va tutto bene No Assorbiva tutta la mia magia con quella pietra E sentivo svanire tutti i miei poteri Sei al sicuro Mi hai impedito di scappare Non perderti The Sand Dance 3 Al 26 ottobre alle 14 su Disney Channel